Benvenuta a Live Social Ciao Riccardo, ciao a tutti Ciao Marika, un saluto a te e agli ascoltatori, grazie di essere qui Dunque iniziamo subito, un argomento molto molto interessante Ecco, chi è l'intuitive life coach? Perché insomma siamo in genere abituati ad approcciarci ad un life coach Ma cosa dà in più questo termine? Parliamo un po' di questo angel life coaching Sì, allora innanzitutto il life coach, se lo conoscete già sapete che lavora Sul diciamo aiutare le persone a raggiungere obiettivi Diciamo su un ambiente più mentale Invece l'intuitive life coach, l'angel life coach Utilizza in questo caso le frequenze angeliche Quindi siamo più su un ambiente più spirituale Quindi abbiamo la possibilità attraverso appunto tecniche più energetiche Di mettere anche in considerazione quello che l'anima ci chiede E quindi sbloccare dal punto di vista energetico Tutti quei sabotaggi, quei traumi, quei blocchi emotivi Che in qualche modo ci bloccano nel raggiungere i risultati Non solo a livello mentale ma anche proprio a livello della nostra anima Della nostra essenza più... Ecco, e il che può dipendere da tantissimi fattori e aspetti diversi Volevo invitare i nostri ascoltatori a condividere tutto questo Ci sono veramente dei veri e propri blocchi mentali ed emotivi Che intervengono e ci permettono di proseguire ad uno step successivo Assolutamente sì Perché la nostra vita è fatta di esperienze Queste esperienze le possiamo comunque... Ci possono bloccare in qualche modo Se noi le interpretiamo in maniera negativa E non come un'esperienza che ci fa evolvere e ci fa crescere